Il numero 32 Anact è Turin B, un maschio baio nato il 2 marzo. Figlio di Salt Possessed e di Fair Lady B, piazzata classica con 147 mila euro di somme vinte in carriera. Fair Lady è una figlia di Sugarcane Hannover, madre di Opaline B, 1'13'9 e ben 7 vittorie e di Pilates B, 1'14'3 e ben 6 corse vinte. Grazie per la visione!